L'intervento questa sera, domenica 11 ottobre, intorno alle 20.30, dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, allertati per il crollio di un tettoia in canto a Mosetti, frazione a Biano. La copertura e delle grosse travi sono crollate finendo sui cavi della corrente elettrica e provocando il crollo del palo e l'introduzione di energia. Tego, le travi, onduline di plastica e la miera sono piombate in terra insieme a numerosi calcinacci. Sul posto sono intervenuti, oltre ai tecnici di Enel, anche il sindaco Alberto Rostagno con il comandante della polizia locale e i cantonieri. L'area è stata transennata e messa in sicurezza e i tecnici dell'azienda elettrica hanno ripristinato la linea. La tettoia confina col capanno di altri proprietari ai quali è stato chiesto di non utilizzarlo per motivi precauzionali, in attesa del sopralluogo dei tecnici comunali previsto per domani. bambini Grazie a tutti. Grazie a tutti.